ciao a tutti oggi prepareremo la ciambella al pistacchio il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa ingredienti sono farina di tipo 00 fecola di patate uova zucchero olio di semi di girasole yogurt al pistacchio estratto di vaniglia lievito per dolci vanigliato sale aroma di mandorle e granella di pistacchi diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere le uova e le facciamo montare per 8 minuti 37 gradi velocità 4 con il cestello al posto del misurino aggiungere l'olio lo yogurt la farina la fecola l'estratto di vaniglia l'aroma di mandorle il sale il sale ed il lievito ed azionare il bimbi per 4 minuti a velocità 4 aggiungere la granella di pistacchi ed amalgamare con la spatola il composto è pronto versare in uno stampa a ciammella da 28 centimetri di diametro ben imburrato e infarinato cuocere in forno pre riscaldato statico a 180 gradi per 45 50 minuti fare sempre la prova a stecchino la ciambella è cotta lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo ciambella al pistacchio grazie e alla prossima ricetta la ciambella è eccomandante la velocità la ciambella strajana l'aroma la ciambella Grazie a tutti.